ciao a tutti e bentornati qui sulla north ma perché la sbaglio sempre ragazzi e la sbaglio sim vabbè benvenuti sulla morgrunt perché siamo sulla morgrunt quella la sbaglio sempre vabbè a niente una volta ogni tanto uno sbaglietto ci sta o quella aiutante se vi giro qua è arrivato a velocità assurde ok continuiamo questa è la cosa bella delle mappe piccole no che tu ti puoi dedicare anche un po a guidare anche da solo quello che è sulle mappe grandi fai fatica almeno che non c'è perché c'è tanta tanta roba da fare e fatica se ti vuoi dedicare li a meno che non hai 12 campi e allora in quel caso sì ma se io dovessi farlo per tutte per tutti i campi e fare poi tutti i viaggi o una cosa del genere allora probabilmente dovrei giocare con tantissimi giorni io invece gioco con un giorno al mese avevo pensato già di aumentare i giorni sull'altra mappa magari passare a due giorni ma per adesso ce la faccio abbondantemente che significa sto così poi quando avremo un po di campi in più allora in quel caso forse sarà sarà la volta buona che andremo a mettere due giorni per mese invece che uno l'altro giorno ho guardato sulla tv c'è l'app di twitch non la sapevo io sta cosa qua invece di tenere il computer acceso possiamo avere anche l'app di twitch sul tv questa non la sapevo l'ho scoperta ed è una bella cosa basta loggarsi e ti trovi la ti trovi twitch direttamente sul televisore e te lo puoi guardare da lì più o meno come funziona poi youtube è una rottura di balle scrivere che è un po di balle scrivere perché con il coso lì con il telecomando è un po' una balla però secondo me almeno io youtube lo vedo alla grande lo vedo benissimo twitch non l'ho ancora provato dovrei provarlo però nenox l'ha provata ha detto che è molto lenta hai fatto un paragone con quella di youtube perché magari youtube se è lento anche youtube può essere magari un problema perché youtube funziona alla grande non vorrei che magari è un problema legato alla linea o alla tv io ripeto non l'ho ancora provata però l'ho vista e mi sa che domani o dopo domani provo a loggarmi vediamo come funziona perché ha bisogno di essere scaricato quel pirla lì gli avevo messo che gli avevo messo di venire a scaricare in solo pirla sono io al solito a taratata qua deve venire a scaricare cortile filo consegna eccolo qua vabbè al solito chi sbaglia è sempre quello che è davanti al computer allora dice youtube funziona bene è molto più fluida beh allora vorrei che magari twitch non è ancora così aggiornata l'app per la tv che poi twitch è di google no? si twitch è di google potrebbero aggiornarlo un pelo di più boh non lo so devo provarla non lo so magari quando la provo ti dico come funziona sul mio io beh è vero che la tv l'ho collegata tramite LAN non ce l'ho in wifi perché così almeno ah twitch è di amazon? no la sapevo pensavo fosse di google ho detto un'altra fregnata eh una volta ogni tanto una sparata una cazzata bisogna spararla ah adesso ho capito perché c'è il discorso di di dell'amazon prime ecco perché c'è la cosa di amazon prime perché è di amazon amazon e amazon fanno ho capito infatti mi sembrava strano dico perché c'è sta cosa di amazon prime ero convinto che fosse di google per quello invece a sto punto la cosa combacia perché mi sono fermato ce ne va ancora e poi l'abbonamento amazon prime lo possiamo solo donare no? cioè aspetta se io faccio il coso su amazon prime tramite twitch eh? allora si di twitch di amazon se vuoi puoi fare un abbonamento gratuito con un solo utente di twitch cioè l'abbonamento puoi fare l'abbonamento puoi regalare qualcosa come l'abbonamento di cioè puoi fare l'abbonamento di amazon su twitch che è ad un ad un utente però allora non lo posso fare per me eh no vabbè ma quello me l'immaginavo me l'avevo me l'ero immaginato perché non ti regalano mica niente lo posso regalare beh visto che ma no ma perché oh ma poi due macchine manco uno eh cioè io il mio amazon prime l'abbonamento lo posso fare lo posso regalare boh mi 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 informo un po' meglio vediamo un po' come funziona probabilmente regalo un qualche centesimo a qualcuno sicuramente funzionerà così sì 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 ah ok tu in poche parole tu mentre lui fa la pubblicità tu non vedi la pubblicità però sicuramente lui prenderà anche qualche centesimo se non sbaglio dovrebbe essere così e allora vediamo un po' cosa succede se metto l'aiutante adesso ma infatti immaginavo perché qualche centesimo sicuramente chi fa l'abbonamento cioè chi riceve l'abbonamento lo prende perché l'altra volta mi avevano chiesto se non mi ricordo chi era che lui aveva aveva Amazon Prime voleva fare l'abbonamento voleva farmi fare cioè voleva fare l'abbonamento con me però non riusciva perché probabilmente devi essere anche devi avere minimo i 50 iscritti perché devi essere partner o una cosa del genere perché altrimenti non c'è ah beh arrivare a vivere con le live di Twitch io poi vedo c'è tantissima gente ah devi essere affiliato sì nel momento in cui sei affiliato lui infatti voleva farmelo dice tu io ho Prime te lo posso fare però quanto pare non riuscivo perché io non sono affiliato e non me lo fa vabbè ma ragazzi non è che per fortuna che lo facciamo almeno per adesso lo facciamo per per adesso anche più avanti lo faremo solo ed esclusivamente per passatempo questo lavoro qua stesso lavoro questo coso perché è un passatempo completamente vedo che vedo che c'è la gente che è viva di di live di di YouTube di Twitch e compagnia varia però secondo me sarà vent'anni che gioca e vent'anni che è abbonato è una cosa del genere ogni abbonamento va a 2 euro e 50 bello con 2 euro e 50 ci vivo alla grande ragazzi poi immaginate di vivere con 2 euro e 50 mamma mia cioè se dovessimo fare questa roba qua solo per i soldi secondo me non non ne vale la pena almeno per chi ha tantissimi follower tantissimi io l'altro giorno ho visto un video perciò ho cliccato due secondi perché vedevo che c'erano 5.000 persone collegate che guardavano questo video qua alla fine cosa faceva era un americano che era lì che girava per la camera raccontava delle cavolate metteva in ordine quella roba lì 5.000 persone che lo guardavano è una cosa assurda no no ma lo so io è il tipo quello che il modder che seguo con Berlanort Frizzish March che anche lui fa le live lo lo vedo che gli fanno i sub gli fanno i cosi gli abbonamenti prime quella roba lì lo vedo a un certo punto però vedo che diventa anche un pelo noioso perché tutti questi ringraziamenti continui cioè vedo che ci sono 7-8 minuti di ringraziamenti tutte le volte tutte all'inizio di tutti i video diventa un po' una cosa mamma mia io non so se avessi tutte questa roba qua mi metterei lì a ringraziare probabilmente lo farei alla fine o all'inizio un po' per tutti e poi poi basta non so se è bello sentirlo di continua io almeno non a un certo punto poi stacco poi riprendo quando ha finito perché mi sembra un po' un po' noiosa la cosa qua ah ma piano piano poi a furia di far questo far quello i soldi i soldi li prendi perché altrimenti vedrai che non sarebbero tutta non ci sarebbe tutta sta gente che facciano le live si mettono lì e spendono anche dei gran soldi perché dei soldi si ne spendono che se poi vuoi il computer i monitor e questo e quello allora le luci perché poi ci vogliono anche le luci e i microfoni e quella roba lì se i soldi non li prende vedrai che la gente non lo farebbe sta cosa qua e ce ne sono tantissimi tantissimi che lo fanno e poi tutti i giorni il tuo giorno c'era uno che mangiava davanti al computer cioè guardarti mangiare non lo so fin quanto ne vale è bello farlo beh almeno vedi con 150 euro ti sei pagato che so una cuffia un microfono una tastiera un mouse una cosa del genere manco la una bolletta della luce qualcosa ce la facciamo sì ce la facciamo sono le 6 meno un quarto ce la facciamo a raccogliere tutta questa roba qua prima che viene notte vedi lo stream deck te lo sei pagato io sono indeciso di prenderlo ma fino adesso non lo so non non è avverto il bisogno più almeno per streammare no ma per altra roba sarebbe utile tipo la cosa di accendere il computer ogni volta di aprire tutte le finestre a una a uno sarebbe forse più utile sarebbe bello avere lo stream deck così che con un pulsante lo apri tutti contemporaneamente o magari in posti un po' la roba la musica sì quella roba sì per streammare non so cosa serva almeno per me a meno che non hai dei non lo so degli effetti particolari poi ripeto io non ce l'ho e non saprei neanche giudicare se effettivamente è utile o no perché non avendolo non arrivato vai e possiamo continuare allora vediamo gli altri come sono messi quello lavorano tutti benissimo ormai finiremo finiremo la puntata con questo qua un po' qua semi di soia ragazzi abbiamo fatto quasi finito di raccogliere tutta la serie tutta la serie e mi sono leggermente rimbambolato allora finiremo di raccogliere sto campo qua di semi di soia e non abbiamo riempito un rimorchio con i 40.000 niente siamo ancora a 25.000 mannaggia semi di soia ne viene poca 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 si domani pomeriggio io domani pomeriggio domani domani mattina lavoro poi ho la visita devo andare dall'oculista devo andare dall'oculista poi viene un mio amico che facciamo un lavoretto in casa ma penso anche per le 4 4 o 5 dovrei essere libero poi mi devo preparare anche per la live di domani sera vediamo se riusciamo a fare quella cosa che ti avevo detto io l'altro giorno domani dai così magari io attivo il gioco scarichi quelle 4 mod che ci vogliono ci metto l'aiutante come va così mi vado a fare un giro sugli altri vediamo cosa fanno allora questo questo ha fatto già il primo giro di sassi perché qua effettivamente poi sul campo siamo sul campo quello grande grande dove abbiamo fatto le barbabietole il primo giro di sassi se l'è fatti adesso il secondo siamo già quasi a 4.000 oh c'è ancora la macchina ferma l'accento di rotonda oh adesso si è messa in movimento questo è fermo qua 25.000 mannaggia allora vediamo se qui la fermentazione va avanti 5% piano piano dai comunque con le luci accesi fa fa un effetto bell'effetto guardiamo un po' bellino da vedere dai con le luci accesi va bene bello 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 io di notte non lavoro mai però l'effetto luce accese allora ce la facciamo dai altri due giri avanti indietro e poi abbiamo finito campo qua con la semi di sola con la semi di sola comincia a far caldo in casa poi ho le finestre chiuse perché nel parco qua ci sono i ragazzini che fanno casino la porta la porta chiusa di là secondo me piano piano comincia a far caldo bene e poi di sol ci dovremmo organizzare anche con la questione degli animali, allora volevo comprare i maiali aspetta un attimo, adesso qua ci metto il coso vediamo i maiali quanto ci costano i maialotti? vediamo un po' perché avevo detto che compravi i maiali alla fine me ne sono dimenticato maiali eeeh me ne servono un po' piccoli e un po' grandi se ne compro dieci di questi vado a cinquemila eeeh una ventina di questi buah sessanta vado a dodicimila e dieci di questi vado a cinquemila con dici e sette mila compro una settantina di maiali e poi da dargli da mangiare eh ma se non ho i maiali cosa gli do? sai che ci facciamo? cioè la cosa facciamo è che adesso compriamo i maiali e dopo qualcosa da mangiare troveremo dai allora questo abbiamo detto dieci e di questo abbiamo detto sessanta ok abbiamo settanta maialotti andiamole a vedere vediamo di cosa hanno bisogno allora andiamo ad aprire il menu allora vediamo un po' maialotti hanno bisogno di cibo base che è cereale, proteine, frutti da terra cibo base e il mais cibo base e il mais un po' di paglia e alla fine va bene questo vabbè questo però probabilmente lo faremo nella prossima puntata dagli da mangiare perché adesso voglio finire di raccogliere i semi di soia che ci sono qui l'ultimo giro e nella prossima puntata andremo a dare da mangiare i maialotti entro sera perché altrimenti ragazzi è novembre li dobbiamo dare qualcosa da mangiare entro sera metteremo un po' di paglia tanto la paglia ce l'abbiamo sono in punizione devono capirlo devono capire chi comanda qua mica loro comando io a letto senza cena no no gli diamo qualcosa e gli diamo qualcosa i nostri maialotti perché altrimenti se i maialotti non fanno i maialotti non mi vengono fuori i maialini hai capito? allora loro devono fare i maialotti per io avere i maialini e poi me li vado a vendere compro altri maialini allora i maialini fanno i maialoni fanno i maialotti e io ho i maialini diventa un scioglilingua il maialino mi fa il maialone il maialone mi fa i maialotti per i prosciuttini bravo vedi? per i prosciuttini wow ho finito di raccogliere qua c'è su poco quel che adesso mi riporto anche questo ok allora finitos finitos oh siamo vicino alle due ore adesso il tempo di questo vieni a scaricare qua potrebbe fermare anche così c'è bisogno che i maialoni per i maialini per i prosciuttini dai vieni a scaricare a un momento tirava dritto gli dava un po' in testa ma che cacchio fa? ma perché fa sta roba? oh perché fa sta roba? oh allora il campo 4 abbiamo tirato fuori 34.000 litri di seme di soia ancora cioè manco il lavoro che abbiamo fatto ragazzi allora vai a scaricare io con la mia trebia mi reco verso la factory ok allora io mi trasferisco verso la mia fattoria così già è fatto notte noi ci rivedremo sulla morgrond i primi giorni di dicembre perché adesso passo anche la notte così noi siamo già operativi al prossimo alla prossima volta io vi saluto vi do appuntamento sempre al solito al solito orario con la morgrond dal pomeriggio alle ore 17 o se volete venire a trovare in live su Twitch al giovedì sera un salutone ai prossimi video ciao 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 a tutti Grazie a tutti.